pensai l'onore di finire in un video lo stiamo facendo Giovanna dai spiegaci stiamo lavorando per i poveri ci sono poveri non vedo poveri per i poveri del Sud America con questa lentezza in cui esce l'acqua ha fatto in tempo a emigrare va bene in cui esce l'acqua in cui esce l'acqua a in cui esce l'acqua ma non ha, non ha ingordi ok vai guarda bene e più di meno? leggermente di più ok se non vedo non credo e più di meno Grazie a tutti.